Sono il classo, scendo in giù, e mi dovrai seduto sulla via un'ultima di volute. Venti una serata di metà giugno, immersi nella splendida cornice del borgo rurale di Noax, incastonato nella Valle del Corno, alle pendici della secolare Abbazia di Rosazzo da una parte e la villa storica della Rocca Bernarda dall'altra, ad ascoltare dal vivo la performance dell'artista udinese Marco Andreoni, che ha portato in visione e in ascolto il teatro canzone del signor G, al secolo Giorgio Gabersic, in arte Gaber. Andreoni ha saputo ammaliare il pubblico, riportando in vita i cavalli di battaglia del cantautore milanese di nascita, ma con sangue istriano di padre, scomparso nel 2003 dopo una grave malattia. Iruenza, improvvisazione, passione sulle stesse orme, personalizzando però a sua immagine e somiglianza le canzoni e i monologhi. Una serata voluta dall'amministrazione comunale di Corno di Rosazzo, presente l'assessore alla cultura Sonia Paoloni, per abbinare la musica al locale, cioè il vino, tre d'union in certi testi del signor G. A dare ulteriore lustro e partecipazione, l'associazione No Profit Sperimenta di Rosazzo, che ha offerto un ricco buffet a base di prodotti tipicamente friulani. Il signor G, il vino e il friuli. Cosa chiedere di più? Il tutto a chilometro zero. Il vino e il vino e il vino per non passare qua Che vava il tuo, chiami e tira E non mi scoppava mai Il suo nome era C'è l'ultimo giro Ma chi amava l'andrata Che amici e parte il giambellino Diceva Era un mago Era un mago Era un mago Era un mago